21 nuovi treni elettrici in arrivo in Piemonte. La Regione e Trenitalia hanno siglato un contratto ponte che prevede l'acquisto di 15 nuovi treni prodotti interamente nello stabilimento di Savigliano. Altri sei treni saranno acquistati con fondi FSC di competenza regionale a copertura delle tratte locali. E' quanto dichiarato in aula del Consiglio regionale dall'assessore ai trasporti Francesco Balocco, rispondendo al question time del consigliere Federico Valetti del Movimento 5 Stelle che aveva interpellato l'assessore sulla tipologia dei nuovi treni e la loro destinazione d'uso. Noi crediamo che sia giusto il procedimento di acquisto treni da parte della Regione perché aumenta il potere di trattativa dell'ente nei confronti dei gestori del servizio. Tuttavia le risorse messe in campo, che sono alcune decine di milioni di euro, in particolare per questo acquisto, non sono sufficienti per rendere davvero la Regione un po' più forte su questo front. Quindi cerchiamo almeno di capire a cosa possono essere designati questi treni perché viene un disperato bisogno non solo nel nodo di Torino ma anche in tutto il resto del Piemonte. I nuovi mezzi cambieranno in meglio il nostro modo di viaggiare, ha sottolineato l'assessore Balocco. Si sta, spero finalmente, chiudendo il periodo delle offerte per il servizio ferroviario metropolitano. Il contratto ponte prevede l'acquisto di 15 treni, 15 treni in base alle risorse che ne sono state definite, cioè 102 milioni, i treni che verranno acquisiti sono appunto elettrici a monopiano e corrispondono sostanzialmente, vista l'offerta della gara di Trenitalia, ai Pop Alstom. Sempre secondo Balocco, significativi rinnovi del materiale rotabile nei prossimi 15 anni si avranno tramite gli affidamenti dell'SFM e del sistema dei regionali veloci entro la fine dell'anno che porteranno la sostituzione di oltre il 50% della flotta attualmente circolante. Verranno anche introdotti i nuovi modelli di treni ad alta capacità Rock e Pop.